Archigiana mobile. Ti senti allora, mi spiega questa cucina che... Eh, cosa devo spiegare? Non ho capito una mucca. Questo è il frigo. Ah questo cos'ha questo? Il frigo, vede il frigo. Questo è il frigo. E questo è il frigo. E questo il congelatore sotto. E questo cos'ha questo? Questo è uno sportello che si mette i piatti di Chieri. E questo cos'è questo? Questo niente, un soprammobile, un fugo. Questo cos'è questo? Il rubinetto, ma... Il rubinetto se lo vede. Ma questo è questo? Questo è un altro... Questo è un altro... Per mettere i piatti che scolano. Questo cos'è questo? Questo è un altro anta. Marchigiana mobile. Spaghetti, pollo, insalatina e una bella tazza di caffè. Da sera è bello e pronto, ma qui... Signora! Siamo pronti, eh? È una bella ora qui. È una bella ora qui. È qui la fame tanta. È fame, aspetta il test dal cuore, eh? Eh, sì. Ecco, le patate crudine si mangiano. Oh, Chiarosa! Perché ci sia cappella! E poi... Ma tu sei bello, Chiarosa! Sempre lo fai la fico! Se io vuoi quanto sei bella! Sta fermo! Che non è il cuore? Sì, stai facendo questa che hai delle belle crugliate! Ma cosa faccio io? Come faccio? Sì, prima... Ebbene, pronti! Piana fordetta intanto! Eh, dove le fordette? Ah! 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 Cosa faccio io? Tornata! Cosa faccio io? Ma c'era un os numore sortera! Cosa faccio io?